Bambina di 2-3 anni che inizia a balbettare. I genitori legittimamente preoccupati perché pensano che possa essere una di quelle balbuzie che dura tutta l'infanzia se non addirittura tutta la vita. Ma non è così. I bambini più grandi possono balbettare per problemi di timidezza o altri problemi che vanno indagati. I bambini piccoli viceversa balbettano, ma moltissimi lo fanno, perché il loro pensiero è più veloce della capacità di parlare e quindi a un certo punto si inciampano con le parole. Rispettate i loro tempi, non aiutateli a completare le frasi, dimostrate loro attenzione e state sereni che è una cosa che dura qualche mese e poi si risolve.